Musica Vuoi vincere una skin o dei bug gratis su Fortnite? Basta riscriverti attivando la campanella, lasciare like e condividere il video. Più amici fate la rete iscrivete al canale e più possibilità di vincere avrete. Non mancare delle mie live se vuoi vincere una skin. Benvenuti, in questo video vi farò vedere tutte le sfide della quarta settimana di Deadpool. Lascio un bel like e iscrivete al canale attivando la campanella. Se voi vincere una skin non pass battaglia. Partiamo subito col video. La prima sfida di Deadpool ci dirà di trovare le catane di Deadpool. Le catane sono due. Ovviamente per facilitarvi in questa sfida farò uscire sul canale il video tutorial di tutte le posizioni delle catane. Così riuscirete a commettere la sfida facilmente. Completando una delle due sfide di questa settimana otterremo le catane di Deadpool, come potete vedere dall'immagine. Mentre la seconda sfida ci dirà di infliggere danni alle strutture avversarie. Per un totale di 10.000 danni. Questa sfida è molto semplice. Basterà farle in lista a squadre e fare danno alle strutture avversarie. Comunque uscirà anche il tutorial su come completarla velocemente. Quindi ecco le sfide di Deadpool complete. Ricapitolando, dovremo trovare le catane di Deadpool, che sono due. E infliggere danni agli avversari per un totale di 1.000 danni. Completando una sfida qualsiasi otterremo le catane di Deadpool, che sarà un backpack molto bello, che ho anche fatto vedere in un precedente video. Quindi mi raccomando, iscrivetevi attivando la campanella per essere aggiornati su quando far uscire queste sfide di Deadpool. Così sarete facilitati nel completarle. Riuscirete a completarle velocemente. E lasciate un bel like se vi è piaciuto e condividete il video a tutti i vostri amici. Ci vedo in un prossimo video.